Sequestrato il cantiere della Rotonda è in corso di realizzazione a Vallo della Lucania. Questa mattina i carabinieri della locale stazione sono intervenuti ad effettuare dei controlli e all'esito degli accertamenti hanno bloccato ad Oras l'esecuzione dei lavori, avendo ravvisato delle irregolarità nell'interferenza con il traffico veicolare. Il cantiere è emerso che non era recintato a dovere, non aveva idonea segnaletica, inoltre al momento dei controlli dei militari vi era sul posto un autocarro che scaricava materiale arrecando rischio a quanti si trovavano a transitare per quel luogo. La vicenda ha destato non poco rumore stamane, visto che da tempo a Vallo si è sul piede di guerra per questa rotatoria ormai quasi completamente ultimata che sorge lungo la strada che conduce ad Angellara, Pellare e Gioi. In particolare nei giorni passati la mentele erano state avanzate da alcune famiglie che risiedono in quel punto e che avevano l'accesso alla strada, ma che a seguito dei lavori e della realizzazione del cordolo si troverebbero in difficoltà costretti a mettere in atto manovre azzardate per entrare e uscire di casa. Stamane dunque sono stati allertati i carabinieri, Aslo, lo stesso sindaco, Aloia e i consiglieri comunali e si è radunato una certa folla attorno alla rotonda mentre i militari compivano i controlli necessari. Al momento sono stati identificati tutti gli operai che erano al lavoro sul cantiere, all'impresa oltre al sequestro è stata combinata una multa di poco più di 500 euro. Per il momento dunque resta tutto fermo sulla rotonda in quanto sono autorizzati solo i lavori per completare adeguatamente la recinzione, inserire la segnaletica necessaria e rendere l'area meno pericolosa per i veicoli in transito. Sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti e non si escludono ulteriori risultati e provvedimenti, visto che stamane sono state diverse le persone che hanno denunciato presunte irregolarità nella giudicazione e nello svolgimento dei lavori stessi, in particolare nella gestione degli accessi delle case alla strada.